I giornali ieri hanno titolato Lombardia frena Salvini sul lockdown, voglio capire cosa è successo veramente? No, no, io non mi permetto di intervenire nel lavoro dei nostri sindaci e dei nostri governatori, semplicemente da segretario della Lega, ma da responsabile del primo partito italiano, da coordinatore dell'opposizione, chiedo appunto coordinamento, e quindi il lavoro perché i sindaci si sentano e si coordino, i governatori si sentano e si coordino, e poi se ci sono dati scientifici, io di fronte ai dati scientifici faccio non uno, ma tre passi indietro. Molto semplicemente da milanese e da Lombardo, che ha già sofferto nei mesi passati, che non vorrebbe tornare a soffrire come abbiamo sofferto nei mesi passati, chiedo che se ci sono allarmi alla vista si intervenga con la necessaria durezza, il dubbio di un coprifuoco notturno fra le 23 e le 5 sulla sua ricaduta utile in termini di sanità e salute pubblica, non è solo mio, però ripeto, questo vale per Zaia, per Solinas, per Fontane, per chiunque, se prendono dei provvedimenti lo fanno evidentemente a ragion veduta.